Quartetto tutto sudamericano per Mister Ibanez, tre brasiliani Un argentino, Pina al volo, Weber Ciampino Agniene che ora sembra Aver acquisito Maggior fiducia, Wilde Palla dietro, Salla al volo La palla viene fermata Sulla linea da Weber Vicinissimo al gol del vantaggio del Ciampino Agniene Wilde per Pina C'è spazio, il destro dentro Wilde davanti a Weber Il miracolo, poi Diaz col mancino Ancora Weber Possesso proprio per la squadra in trasferta Santos, Casas allontana Divanei dal fallo laterale Portuga, Divanei, palla buona Weber allontana Nello scontro diretto di oggi Oito Meia Stazzone prova ad uscire il CMB Ancora il numero 86 Pina ricovera il pallone, il mancino Weber allontana Santos sulla corsa di Mohamed che la mette giù Casas chiude le gambe Palla recuperata da Abate La tiene Va via il capitano Può calciare Lo fa la parata E qui ancora la parata di Diego Perez Quella Bizia, Cavellino Passaggio di torno per Bizia Che calcia la posizione depilata Di tanto Roma mentre il Pescara affronterebbe il Pesaro Intanto attenzione L'opportunità ancora con Jones che si oppone straordinariamente Poi La giocata con la palla recuperata Attenzione Jones Bravissimo E si riparte Con il possesso Nei piedi Della L84 Coletto Per il Dias che va Col sinistro Ottima la risposta del solito Dalcini Qui prova ad intervenire Nicolodi vuole il fallo di mano Cutrupi spinge la transizione per Esposito Deve uscire Ducci A murare la conclusione Il tocco sotto di Matteo Esposito Primo squillo della partita Dopo quasi due minuti Fischio Via al secondo tempo Si riparte con il Lido Avanti 1-0 Intanto occhio subito Allo scippo di Nicolodi Bravissimo Di Ponto Ad aspettarlo lì A mani aperte Che sulla pressione di Tressa Non riesce a controllare il pallone Poi Nicolodi Sgasa ancora Col mancino Altra grande risposta di Di Ponto Su Eric Siamo giù dalla parte apposta Bosa 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 Stefano Mammarella Via Salas Intercetto di Petrobo Poi litiga con Micheletto Regala una palla a Borrutto Che calcia Bello buono in calcio d'angolo Poi via Cuzzolino Ancora ciolito Salas Che avanza A spazio De Luca Bello buono Che risposta E che parata Palla fuori 1-2 Attenzione al mancino di Bolo Ancora Cuzzolino Palla splendida per Borrutto Che va da Toni Nandella La finta di Toni Nandella La blocca Bello buono Bolo Borrutto Cuzzolino 1-2 Bello buono Paratona Alza ancora sul secondo palo Per Fortino Che si coordina In maniera divina È stata statuaria La difesa del Simbios Qui arriva un paratone Di Andrea Bastini Turmena Coelho Il controllo Il sinistro Vola Bastini Che disinnesca Il mancino di Bruno Coelho Bruno Coelho Turmena Ancora da Bruno Coelho Bastini Il sinistro 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 Grazie a tutti